Buonasera Londra, una cosa importante da conoscere della fisiologia dell'essere umano è che un fattore può produrre un effetto o il suo contrario. Per questo noi diciamo sempre dipende, perché dipende dal contesto. L'esercizio fisico aiuta a bruciare le calorie, preserva i muscoli, migliora la sensibilità insulinica, ma può fare anche l'opposto, può causare catabolismo muscolare e resistenza insulinica a disfunzione mitocondriale. Oggi parliamo proprio di questo, scopriamolo! Il detto che dice è la quantità a fare il veleno nella fisiologia è proprio vero. E infatti diversi studi mostrano che quando siamo a dieta un esercizio eccessivo erode il muscolo in quanto in acuto l'allenamento è un fattore catabolico, ma se poi la dieta è cronicamente ipocalorica questo catabolismo indotto dall'allenamento che normalmente viene supercompensato in anabolismo non porta a questo fattore. Quindi allenarsi troppo quando siamo a dieta, che cosa comporta? Comporta un aumento della resistenza insulinica, l'esatto opposto di quello che dovrebbe portare il training, porta a disfunzione mitocondriale e a uno stato catabolico. Quando avete un deficit instaurato nel cronico, 3, 4, 5 allenamenti brevi al massimo se siete altri atleti ci possono stare. Ma è meglio fare meno che fare di più. Proprio perché l'allenamento deve essere compensato dai nutrienti che gli diamo. E quello che la ricerca scientifica fa vedere è che chi segue una dieta con un buon quantitativo di proteine 2,4 grammi rispetto alle 0,8 classiche, riesce a sopportare meglio gli allenamenti con un deficit calorico. Anche la quota di carboidrati è importante per chi si allena, in quanto i livelli di glicogeno epatico e muscolare determinano il catabolismo del muscolo, meno glicogeno abbiamo nei tessuti e più le proteine vengono prese per produrre energia. Normalmente negli atleti si consiglia di non scendere mai sotto i 200 grammi di carboidrati in una dieta ipocalorica. C'è una soggettività, ma quello che si è visto è che è meglio tagliare sui grassi. Quando abbiamo un grammo, 0,8 grammi di grasso per chilo di peso corporeo, abbiamo la piena produzione degli ormoni gonadici, del testosterone. Ma l'uomo, quando si mette a dieta, ha un calo dei suoi ormoni gonadici. E questo calo non può essere attenuato in nessun modo, è proprio fisiologico, perché quando c'è una carenza di cibo la capacità riproduttiva viene meno, perché la natura che cosa dice? Non riesce a procurarti il cibo per te, figuriamoci per i tuoi figli. Si è visto quindi che se su soggetti grassi normalmente i carboidrati non danno senso di sazietà e si possono benissimo tagliare perché il grasso corporeo ha un effetto di risparmio sul tessuto muscolare, in soggetti già abbastanza magri e sportivi è meglio preservare la quota di carboidrati e piuttosto tagliare quella di grassi. Infine, l'allenamento cardio durante la dieta può esserci perché ci aiuta a mangiare un po' di più, perché in questo modo andiamo a creare il deficit calorico non tramite la dieta ma grazie anche all'allenamento, ma non dobbiamo eccedere. Perché se è vero che il cardio non ha un effetto catabolico diretto, ha un effetto anti-anabolico, è anche vero che le calorie che consumiamo con la corsa o con la bici più quelle che facciamo con la dieta rischiano di essere eccessive e che cosa succede? Quello che vi dicevo prima, che un effetto che dovrebbe essere positivo per il nostro corpo, superata una certa soglia, diventa negativo. E quindi anche un cardio eccessivo crea resistenza insulinica, che è l'opposto di quello che normalmente produce, e disfunzione mitocondriale, perché comunque i mitocondri vengono sottoposti a uno stress durante l'attività fisica e non hanno modo di recuperarla perché non diamo abbastanza energie. Quindi noi facciamo cardio per migliorare la salute dei nostri mitocondri, ma se eccediamo creiamo più un danno che un beneficio. In conclusione, è molto difficile dare delle linee guida per tutti, perché siamo differenti, dicendo tu ti devi allenare quando stai a dieta tre volte, quattro, cinque, dipende. Ogni persona deve provare e deve riuscire a capire in base a cosa, in base a preservare la sua performance. Durante la fase ipocalorica non dobbiamo pensare ad aumentare i parametri allenanti, a meno che non eravamo principianti o al massimo intermedi, perché se già portiamo il nostro corpo vicino al suo potenziale, una dieta ipocalorica non ci può aiutare. Quello che dobbiamo cercare di fare è preservarli. Se vediamo che la performance sta calando in modo rilevante, dobbiamo pensare a una condizione di overreaching o overtraining, e quindi a un eccesso abbiamo tirato troppo la corda, dobbiamo salire un po' con le calorie o dobbiamo allenarci un po' di meno, se no faremo il botto. L'idea romantica di non mangiare niente, allenati come un pazzo, va molto bene per i programmi televisivi, va molto bene per motivare la gente, ma fa poi dei veri e propri disastri nella realtà. Ricordatevi sempre che in medio stat virtus, se create un deficit non potete allenarvi come quando non c'è questo deficit. Se volete saperne di più, in Project Nutrition abbiamo messo come fare la dieta a seconda della fase di massa, a seconda della fase di definizione e come fare anche l'allenamento, quindi qua c'è da studiare, trovate tutto per essere padroni dei concetti e non schiavi delle diete. Io vi ringrazio e ci vediamo con un prossimo video. A presto! a presto! Grazie a tutti.